Nelle Marche cresce la raccolta differenziata e aumentano le pratiche virtuose di amministrazioni pubbliche e cittadini. È quanto rilevato da Legambiente durante l'ottava edizione del premio Comuni Ricicloni, nel corso della quale sono stati assegnati riconoscimenti e menzioni speciali a quegli enti che hanno superato la soglia del 50% di raccolta differenziata o si sono distinti in particolari progetti a suo sostegno. Intorno ai 100 Comuni Marchigiani fanno oggi la raccolta differenziata spinta, porta a porta o di prossimità. Significa che metà dei cittadini marchigiani oggi fanno questa pratica e questa è una rivoluzione recente, dal 2006 in poi che si è messo in modo questo processo. Per cui è incoraggiante, è chiaro che dobbiamo lavorare per far sì che gli altri 100 Comuni facciano la stessa cosa e possono avere esperienze vicine, toccare, capire come ha funzionato e come sta funzionando negli altri Comuni Marchigiani, i costi, tutti i dubbi possono avere delle risposte e dobbiamo anche puntare sulla riduzione, per cui prevenzione. Ancora troppa plastica utilizziamo inutilmente, ancora non riusciamo a riutilizzare tanti materiali che potrebbero essere utilizzati, per cui i Comuni dovrebbero attrezzare dei centri di recupero dove un cittadino che non usa più un televisore, magari che fa anche bene, lo lascia lì e qualche altro cittadino che ha la seconda casa in campagna, gli serve e lo prende. Questo vale per libri, giocattoli e via dicendo. Come tante buone pratiche possono essere ancora attivate per ridurre i rifiuti. Stiamo praticamente sensibilizzando proprio questa campagna della differenziata perché dimostriamo che con questo tuteliamo ancora di più il paesaggio e naturalmente facciamo anche un maggior risparmio per i contribuenti. Quindi maggiore comunicazione e maggior impegno con l'ARPAM e con le Gambiene che ci ha sostenuto fino ad ora e ci ha permesso di arrivare a questi ottimi risultati. Molto bene la provincia di Ancona, da cui provengono ben 10 dei 27 comuni premiati. Meglio di tutti Serra dei Conti, che si piazza al terzo posto della graduatoria regionale con il 77% dei rifiuti sottratti alla discarica, dietro soltanto ai comuni di Appignano, primo con il 78,7% e di Montelupone, secondo con il 77,7%. Un premio al lavoro fatto dall'amministrazione ma soprattutto dai cittadini in questi anni. Siamo passati dal 15% all'oltre il 50% di raccolta differenziata. Abbiamo fatto molto bene, possiamo far meglio. C'è un progetto di ripristino del nostro centro ambiente che potrà dare per il prossimo anno un grande impulso. Premi anche per la campagna di comunicazione del Consorzio CIR33 e per il progetto di recupero degli oli vegetali esausti della provincia di Ancona, che ha visto la distribuzione a tutte le famiglie di apposite taniche di raccolta da riversare in contenitori collocati in prossimità delle abitazioni o nei centri ambiente comunali. Un'azione concreta di comunicazione e di informazione per potenziare il servizio di raccolta porta a porta e soprattutto per aumentare ancora di più le percentuali di raccolta differenziata. Noi oggi a livello consortile abbiamo superato il 50%, sappiamo che nel 2012 l'obiettivo è del 65%, quindi dobbiamo lavorare insieme in collaborazione con la provincia di Ancona e con i cittadini della nostra comunità affinché questo risultato venga raggiunto nei tempi previsti. Infatti i cittadini sono la chiave di tutto, la raccolta differenziata inizia dal sottolavello di casa di ognuno di noi, il miglior impianto che possa esistere, quello dove tutti i giorni, tutti i momenti noi operiamo con le nostre mani. Se facciamo bene la raccolta differenziata in casa nostra i risultati complessivi saranno ottimi e saranno anche dei risparmi economici, quindi più salute, più ambiente, più economia attraverso le nostre mani. Da segnalare infine le speciali menzioni start-up per cui i comuni che negli ultimi mesi hanno potenziato il loro sistema di raccolta dei rifiuti, passando almeno per una frazione merceologica al sistema porta a porta. Su 36 amministrazioni premiate, 15 appartengono alla provincia di Ancona. Abbiamo iniziato il 26 ottobre del 2009 e quindi a distanza di un anno, partendo da una raccolta differenziata che si attestava allora verso il 15%, siamo arrivati al 42%, quindi in appena un anno. Inoltre stiamo costruendo il centro ambiente proprio nel comune di Castelplanio che servirà a 10 comuni a completamento di quello che è necessario perché la raccolta differenziata possa funzionare.